No, grande! Che è successo, Gargio? Ispettore, venerdì sono in detta SS. E chi sono? E' il gruppo preferito di Pino. E chi è Pino? Pino è un mio amico che è pazzo per il black metal. Oddio, non è che io ci sono tanto per il black, sono più per quello classico. E si dissi, Iron Maiden, i mitici Judas Priste. E lei, ispettore? A me questa musica mi fa cagare tutta quanta. Attenzione! Non si vede una minchia. Togliti questi occhiali, Gargio, che sei ridicolo. Ispettore, me l'ha detto lei che dovevamo essere cattivi. La prima mara c'è sussisa, me l'ha detto di una banca in sinistra. Folutiamo i black doors from hell! Oggiiamo un infernale benvenuto ai... Noi not! Grazie, complimenti. Gran concerto. Ber, ma tu guarda sto coglione. Si tiene le cuffie anche durante un concerto. Togli quella merda di cuffie. Ma sei scemo? Gliela togli tu la cuffia? Si chiama Deb perché sembra morto, ma se si sveglia sono i cazzi. Oh, Robin. Eccola là. Oh, ragazzi, ma qui zombie non c'è. Vabbè, dai, andiamo a cercarlo di là. Oh, ma avete visto chi c'è? C'è sempre. Ehi, come sei? Grazie. Senti, ma per caso hai visto zombie? No, perché? È da un po' che non lo vedo. Strano. Non siete fidanzati? No, perché? Così dice lui. No, no. Siamo solo amici. E allora perché chiedi di lui? Comunque non l'ho visto sul palco con i Black Dog from Hell. Eccovi, va. Forse hai capito che è meglio cambiare amici. Angelica, che cosa ci fai col passato del metal? Il futuro siamo noi. Black Dog from Hell! Sarà, ma io di vostro non l'ho visto ancora neanche un demon. E poi c'è differenza fra passato e storia. Indormentata fieta! Mi ha giusto Enrico. Questi portano sfiga. Ma hanno rispettato le perché? Eh, no. Guarda che faccia. Eccola là. Ma tu guarda con che razza di gente se la fa mia nipote. Ma idea di cosa può fare con la merda una ragazzina? Rispettore, ma lei lo sa chi è quello? No, Gargio, non me ne frega un cazzo di chi è quello. Io li arresterei tutti, a prescindere. Drogate. Giovani, è arrivato un nuovo sceriffo in città. Se vi vedo un'altra volta girare vicino a quella ragazzina lì, vi do tanti calci nel culo finché non vi ritorna il colorito. chiaro brutti zombie del cazzo? Questo è che cazzo, eh? Chi cazzo sono? Ispettore Coliandro, polizia, squadra mobile. Robi, andiamo, andiamo. Eh, ciao Angelica, ci vediamo. Bravi, andate da mamma, forza, andate da mamma. Dai, 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 circolare. Angelica, vi e te dobbiamo parlare, vieni qua, forza. Ricordati quello che ti ho detto, i brutti agenti. Angelica. Angelica, vieni qua. Oh, Benzebù, che cazzo ti ridi? Già te l'ho detto, se ti vedo un'altra volta in compagnia di quella ragazzina lì, ti faccio un buco in fronte. È chiaro, sì o no? Non ho idea di quante volte sono morto. Che giù te l'ho detto, questi portano veramente sfide. Angelica! Angelica, vieni qua, Angelica! Oh, Stipe, per me comunque sei un grande! Oh, Stipe, per me comunque sei un grande!